Ormai da due anni le spese della Regione Abruzzo risultano fuori controllo, uno scenario che quest'anno appare più grave vista la recidiva sui gravissimi atti già denunciati che potrebbero tra l'altro arrivare a decretare lo scioglimento del Consiglio regionale. La Corte dei Conti quindi boccia l'Abruzzo a causa di comportamenti omissivi, ritardi, violazione di norme e inadempimenti. Un durissimo atto d'accusa, quello dei magistrati contabili, 11 le contestazioni che la Corte dei Conti ha sollevato contro la Regione. A partire dai rendiconti che sono fermi al 2012. Nel documento la Corte dei Conti parla di totale astrazione della realtà finanziaria e riporta cifre per cui il disavanzo 2012, di mezzo miliardo di euro, potrebbe essere molto più elevato. Inoltre non c'è accertamento sui debiti residui dal 2013, mancato riallineamento del ciclo di bilancio, così come dell'utilizzo dell'assestamento per gli anni 2013, 2014 e 2015. Tra le infrazioni, violazione reiterata del disposto normativo e dei principi di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di copertura delle spese. Secondo i giudici contabili, la spesa della Regione Abruzzo è fuori controllo. L'ipotesi è che la Regione si sottraga a misure destinate ad operare sull'intero territorio nazionale e che venga meno agli obblighi solidaristici che gravano su tutti i soggetti istituzionali componenti della Repubblica. Tempestivo l'attacco da parte del Movimento 5 Stelle. Non è più accettabile la condotta omissiva e in piena violazione delle norme che questa giunta regionale sta attuando, commenta Sara Marcozzi, capogruppo del Movimento, è l'ennesima delibera con cui la Corte dei Conti denuncia le inadempienze e le violazioni di questa giunta che, a detta dei magistrati contabili, porta la Regione Abruzzo all'isolamento dal contesto delle regioni italiane. Il Governo regionale ha avuto 30 mesi per sistemare i conti, ma evidentemente non c'è la volontà politica di riportare legalità e ordine nei bilanci. Infine, visti gli evidenti limiti tecnico-gestionali della giunta ad Alfonso, il Movimento 5 Stelle chiede le dimissioni dell'assessore Silvio Paolucci.